Rubba, effetti personali e oggetti in un'auto parcheggiata. A Catania un cinquantenne del luogo è stato arrestato in fragranza di reato. È stato ripreso mentre rovistava tra i sedili di un'auto in sosta e portava via alcuni oggetti dalla macchina, la Fiat Panda di un 25enne, anche lui di Catania. I fatti sono avvenuti a pochi minuti dalla mezzanotte. Il cinquantenne ha rotto il finestrino dell'auto e ha iniziato a rovistare tra i sedili, nella porta oggetti e sul divano posteriore, pare scegliendo quello che voleva prelevare e mettendolo in una scatola. Subito dopo l'uomo si è allontanato dall'auto. La chiamata ai carabinieri è arrivata da un cittadino che ha assistito alla scena e ha fornito alle forze dell'ordine anche una dettagliata descrizione dell'abbigliamento della cinquantenne. Dopo poco i carabinieri hanno rintracciato l'uomo che alla vista dei militari ha tentato di disfarsi sia degli oggetti rubati sia del martelletto d'emergenza rompi cristalli con il quale aveva rotto il vetro dell'auto. I carabinieri hanno arrestato l'uomo e recuperato l'area furtiva. Il cinquantenne aveva rubato un paio di pattini in linea, quattro accendini da collezione, un mini aspirapolvere da auto e alcune barrette di cioccolata. L'area furtiva è stata restituita al proprietario dell'auto che nel frattempo era stato rintracciato.